Mi chiamo Masako Matsushita, vengo da Pesaro e sono metà italiana, metà giapponese. Io sono Mugen Yairo e vengo da Colbordolo, mio padre è giapponese e mia madre italiana. Poi abbiamo con noi Federico Moschetti che è di Pesaro, sound artist, poi abbiamo Valerio Veneruso, trapiantato in Veneto, visual artist e Paolo Paggi che è il tuttofare e assistente alla produzione. Io sono un'artista del movimento, ho studiato danza, coreografia e ho studiato l'arte del taiko e vari strumenti musicali. La nostra collaborazione nasce da tanti anni fa, siamo cresciuti insieme e abbiamo preso vari percorsi per approfondire i nostri studi e nel 2009 ci siamo incontrati per la prima volta per collaborare a una piccola prova tra danza e taiko che sono le percussioni giapponesi e l'anno scorso finalmente ci siamo messi giù a marzo del 2016 a creare i primi 20 minuti di questa storia che si chiama Taiko Kiat. Al Garage Nardini stiamo sviluppando il lavoro e quindi stiamo entrando di più all'interno delle varie scene, inserendo storie tra spiriti e... Sì, in relazione tra l'uomo e lo spirito. Il gruppo, oltre ad essere noi due, ha messo insieme artisti che provengono da background diversi, ad esempio Federico Moschetti che si occupa del sound e fa live interaction durante lo spettacolo. e diciamo che ha trattenuto, ha registrato i suoni dagli strumenti di Mugen e per poi lavorarci sopra, nella composizione. Poi Valerio Veneruso che è un visual artist e in questo momento stiamo lavorando sulla realizzazione di un'immagine che può essere messa negli scioggi. Poi abbiamo Paolo Paggi che è l'assistente alla produzione e tanto altro. Il nostro sharing sarà l'8 febbraio alle 21 qui al Garage Nardini.